... Oggi abbiamo scelto come sede la nostra protesta l'ufficio tecnico del 1300 municipio a Ostia La nostra protesta consiste nel sensibilizzare l'amministrazione comunale, cioè il sindaco Gianni Alemanno contro la soluzione degli uffici tecnici a Roma per garantire trasparenza e imparzialità nell'esperienza delle funzioni di istituto come garantito l'articolo 97 della Costituzione italiana noi chiediamo alla nostra richiesta del trasferimento periodico da un municipio all'altro ogni tre anni dei dipendenti della Polizia Municipale, perciò vigili urbani e dipendenti appartenenti agli uffici tecnici territoriali per garantire appunto, ripeto, il principio di trasparenza e imparzialità nell'esperimento delle funzioni ha scelto come simbolo territoriale della nostra proletta proprio a Ostia, cioè di questo municipio perché le nostre segnalazioni di Ciccun sono più numerose appunto da parte dei cittadini di questo municipio di questo territorio e abbiamo un motivo di credere appunto che il fenomeno sia in qualche modo più presente chiaramente la nostra battaglia si rivolge a quelle mele marce che si annidano di questi uffici appunto dalla Polizia Municipale e degli uffici tecnici per quelle poche mele marce però vanno a ufficiare la buona immagine di tutto il corpo della Polizia Municipale e del dipendente appunto degli uffici tecnici comunali di questi comparti lavorativi perciò noi non possiamo prescindere da questa soluzione per poter garantire appunto la liceità nell'esplodamento delle proprie funzioni di questi comparti professionali e questa garanzia della tutela dei cittadini perciò dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge per garantire, preservare i cittadini stessi da pericolo di omissioni o applausi in ufficio e non siamo non certo a dirlo è la cronaca, la cronaca che spesso ci rimanda problemi di questo tipo, fenomeni di questo tipo noi chiediamo, ripeto, il trasferimento periodico ogni tre anni da un municipio all'altro se viene dovuto anticipare dei dipendenti, degli uffici tecnici e dei vicini urbani questo è una rossa battaglia che va avanti già da un anno e mezzo stiamo protestando contro il silenzio il posto appunto opposto a noi alle nostre inteste dal sindaco Gianni Alemanno che aveva demandato la questione all'assessore al personale Enrico Cavallari che però dopo essere stati ricevuti appunto dal capo della sua segreteria ha opposto sempre questo silenzio perciò contro il silenzio delle istituzioni noi continueremo le nostre proteste che abbiamo deciso di andare avanti con questa nostra protesta lo faremo fino a quando l'amministrazione comunale non aprirà un tavolo di concertazione perciò noi diventeremo responsabili appunto il sindaco Gianni Alemanno in tutta la giunta comunale quindi responsabili politicamente eventuali abeati di questo tipo che verranno perpetrati ai danni da rubri d'amministrazione ai danni dei cittadini in realtà dipendenti appunto di questi comparti territoriali chiediamo perciò al signor Alemanno di incontrarci di ascoltarci su questa cosa abbiamo già incassato diverse opinioni positive in merito a questo diverse per esempio da parte del presidente del senso municipio Giacomo Zani presidente del senso municipio Sandro Medici dal vice comandante generale che a nome del comandante generale Angelo Giuliani e appunto vice comandante Diego Porta aveva detto che ci aveva assicurato che per quanto riguarda loro una situazione del genere poteva essere condivisibile magari per quadranti territoriali per quanto riguarda noi non si può prescindere da questa da questa soluzione per poter garantire finalmente la la salvaguardia appunto anche e soprattutto del corpo del corpo dei polizioni municipali dei polizioni municipali tutti coloro i quali sono impegnati a fare il proprio dovere di una pregazione e consenso sicuramente delle istituzioni e non è possibile che questo diciamo che il lavoro di queste persone della maggior parte appunto appartenenti a questi comparti lavorativi venca inficiato e messo in discussione da quelle coppie melemance che si lasciano andare a fenomeni di conlutene perciò corruzione e concussione omissioni dati d'ufficio e illeciti di vario tipo